Ciao amici, ben ritornati in un'altra puntata della reazione americana. Io sono l'americano, mi chiamo Franco. Oggi vi voglio dire buona Pasqua, spero che avete una bellissima giornata con la vostra famiglia. Se credete a Gesù è risorto per i nostri peccati, vi dico a tutti buona Pasqua, mangiate bene, spero che avete una bellissima giornata a tutti. Che altro devo dire? Grazie che mi guardate, ci parliamo, sempre piace fare i commenti, rispondere. Grazie, vi ringrazio tutti e ci vediamo presto. Ciao.